Allora è deciso, chiediamo a Chris se il frosty di Wendy è un milkshake o un gelato, poi mandiamo via lui e quel bullo di suo figlio. Ehi, sentite questo odore? C'è puzza di cacca. Oh mio Dio, qualcuno ha fatto la cacca in fondo alle scale. È stato Chris. Cosa? No, è vero c'è della cacca laggiù, ma io non lo farei mai. No, è tutto chiaro, voi siete degli psicopatici, dovete andarvene. Non sono stato io. Sta dicendo la verità, la cacca è mia. Peter, perché hai fatto la cacca in fondo alle scale? Ho fatto la cacca a metà delle scale ed è scivolata giù come una molla, è stata una scena pazzesca. L'hai filmata? Avrei dovuto, ma no. Perché l'hai fatto, Peter? Io mangio tante fibre e non posso fare la cacca a casa perché il mio bagno è tutto di vetro e si affaccia sull'oceano, le barche e i pesci mi guardano. Fatti fare un bagno fronte strada. Lois dice che rovinerebbe l'estetica della casa, per questo c'è tensione tra noi ed ecco perché lei gioca con i trenini. Non sei più da solo, tesoro mio. Lois è un vero mostro. Ragazzi, uno di voi ha fatto la cacca in fondo alle scale? L'abbiamo fatta tutti. Ho fatto la cacca in fondo alle scale ed è scivolata. Hai filmato la scena per caso? Purtroppo non l'ho fatto. Quanto è grave? È molto grave. Perché una persona dovrebbe fare la cacca in fondo alle scale di una scuola? E perché tutti gli uomini sono vestiti come Audrey Hepburn e le donne come Elvis? È stata un'idea di Peter Griffin, signore. Grazie. Grazie.